Potente preghiera per chiedere a Dio e ricevere i suoi doni Dio ci ascolta e questo lo fa attraverso i vari santi e gli angeli che possono intercedere attraverso la Madonna e Gesù. Dunque non pensiamo mai che Egli non possa ascoltare le nostre suppliche che anzi per Lui sono l'infa vitale. Le preghiere non sono soltanto un modo per entrare in stretto contatto con Lui e quindi per dialogare ma anche per esprimere il nostro amore, diffonderlo e allontanare il male. Ecco una meravigliosa preghiera di ringraziamento che possiamo recitare e che ci riempirà il cuore ancora di più di amore verso di Lui. Non stanchiamoci mai di ringraziarlo per quello che ci dona. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ringrazio Dio dei Cieli per la straordinaria grazia di poter stare di fronte a Te. Grazie per avermi mandato lo Spirito Santo e di avermi colmato con ogni suo dono. Grazie per l'amore e la gioia, la pace e la pazienza, la bontà e l'autocontrollo. Grazie per questa preghiera di adorazione. Ti ringrazio per la gioia di totale resa a Te. Grazie per la mia sincera penitenza di aver provato il Tuo perdono. Grazie di avermi dato il coraggio per poterti pregare nel bisogno. Ti ringrazio perché mi porti alla completa e sincera conversione, distruggendo in me le vecchie abitudini. Grazie per la grazia di poterti ascoltare e crescere nella fede in Te. Grazie per il Tuo disegno su di me. Ti ringrazio per il Tuo amore incondizionato, perché non mi hai dimenticato e abbandonato. Ti ringrazio perché vegli su ogni attimo della mia vita i momenti di gioia e di difficoltà attraverso i quali mi conduce alla maturità e alla fede profonda. Ti ringrazio per l'aiuto che mi dai, aiuto che conduce al bene quando in Te depongo la mia fiducia. Ti ringrazio perché mi proteggi da ogni forza oscura e perché posso sentire la Tua avvicinanza e l'amore, l'aiuto e la salvezza. Grazie per coloro che mi hai assegnato per sostenermi e assistermi. Attraverso le vie della vita. Grazie per la Tua bontà e la misericordia che mi accompagna ovunque mi trovi. Grazie perché mi permetti di abbandonare i brutti pensieri e mi induce a pensare al quel che mi cura e incoraggia. Grazie per tutti i Tuoi doni, in particolare per il dono d'amore che allontana da me ogni paura. Ti adoro, Gesù. Ti onoro e ti rendo grazie per la misericordia che hai di me in questo momento e perché io possa stare con Te e rivolgerti questa preghiera. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie.